Quasi un anno di attesa, 11 mesi per una visita dall'oculista nel 2011 contro gli otto mesi del 2010, sette mesi e mezzo se si ha bisogno di un cardiologo, mentre nel 2010 si doveva aspettare sei mesi, anche se le segnalazioni totali dei cittadini relative al 2011 sono in lieve flessione. A evidenziarlo è il Report Pit Salute 2012 di Cittadinanza Attiva.